Intervento dei Vigili del Fuoco di Ivrea a Torino e Volpiano nel pomeriggio di lunedì 13 gennaio intorno alle 15.30 in via Trionfo a Montalenghe. L'allarme è scattato per un incendio alla canna fumaria di un'abitazione che si è steso intaccando il sottotetto. I Vigili del Fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme per poi procedere con la messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Nessuno è rimasto ferito. Nessuno è rimasto ferito. Nessuno è rimasto ferito. Nessuno è rimasto ferito.